La salute corre sul filo del telefono. Dopo un periodo di sperimentazione entra a pieno regime all'ospedale Molinetti di Torino il sistema di teleassistenza, realizzato tramite un accordo tra il nosocomio cittadino e Telecom Italia e un finanziamento messo a disposizione dalla regione Piemonte. L'innovativo servizio di teleassistenza domiciliare Nuvola Hit Home Doctor di Telecom Italia consentirà ai pazienti affetti da patologie croniche di monitorare da casa i propri parametri fisiologici attraverso il telefono cellulare. I pazienti che vengono ricoverati in questo ospedale ma in prospettiva anche in tutti gli altri ospedali della regione Piemonte e che possono essere dimessi in quanto non più così critici possono essere seguiti in modo virtuale a casa loro con un sistema appunto di telemedicina. Cosa consiste? Questo fatto consiste nella possibilità da parte dei pazienti di registrare con dei device banali, insomma abbastanza semplici da far funzionare da parte loro o da parte di loro familiari che misurano la pressione arteriosa, il peso, l'ossimetria, l'elettrocardiogramma, la coagulazione del sangue ed altri parametri e di trasmetterli via bluetooth con un cellulare dedicato che l'ospedale fornisce ai pazienti medesimi ad una piattaforma informatica che Telecom Italia ha messo a punto. I medici dell'ospedale che avevano in cura questi pazienti e i reparti di questo ospedale che hanno aderito sono 7-8 per il momento ma altri ne stanno arrivando vedono i parametri e si comportano di conseguenza nel senso che o tranquillizzano il paziente o trasmettono il dato al medico di famiglia perché non dimentichiamo che il paziente quando è fuori dall'ospedale è di competenza del medico di famiglia. Il servizio potrà essere ampliato secondo le necessità. Stiamo parlando di un telemonitoraggio domiciliare oppure è poi anche possibile fare questo tipo di attività all'interno di ambulatori che sono periferici e quindi evitare che il paziente debba recarsi necessariamente nel centro di eccellenza magari cittadino ma può recarsi solo all'ambulatorio più vicino a casa.